Ciao Cherries, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e oggi vi do il benvenuto nel mio primissimo vlogmas. Siccome è una cosa che va molto molto di moda nel mese di dicembre su YouTube, io mi sono detta, posso essere io l'unica stupida che non fa neanche un vlogmas? Assolutamente no. In realtà io ragazzi non ho uno spirito così festoso, così natalizio, nel senso che sì, mi piace il Natale, mi piace festeggiare, ma insomma non sono una di quelle che vanno pazze per questo periodo, ecco. Quindi in realtà non avevo programmato di fare dei vlogmas, poi però mi sono detta insomma il Natale in Norvegia potrebbe essere una cosa magari interessante, farvi vedere qualche tradizione, non solo natalizia di tutto il mese di dicembre eccetera, qualcosa un po' di particolare. Allora ho detto perché non chiamare questi vlog vlogmas? Comunque quello di cui vi voglio parlare oggi è la tradizione norvegese che riguarda Santa Lucia. La tradizione viene dalla Svezia, il giorno di Santa Lucia si chiama Lucia Dagen, quindi giorno di Santa Lucia, e che cosa succede? Succede che normalmente c'è una processione di bambini dell'asilo o degli elementari, comunque quelli un po' più piccolini, vestiti tutti con queste tuniche lunghe, bianche. Normalmente tradizione vuole che una bambina stia all'inizio della fila, tutti gli altri bambini si mettano appunto in fila dietro di lei, tutti vestiti uguali, ma la bambina che sta nel primo posto della fila, rappresenta Santa Lucia, ha una coroncina in testa con delle candele accese, infilate dentro. Una cosa molto carina, sono veramente carini, però a me questa coroncina di candeline mi fa un'ansia, perché mi ricorda tantissimo tipo i fantasmi giapponesi, non so perché, vabbè. Comunque, hanno queste 3-4 candeline infilate in questa fascetta sulla testa, fortunatamente, visto che siamo in tempi molto molto moderni, queste candeline sono candeline elettriche, di modo che questi bambini non rischino di darsi fuoco alla testa, sarebbe un'esperienza abbastanza brutta. Quindi loro fanno questa piccola processione, da noi ad esempio vengono nelle scuole dei ragazzi più grandi, intanto che camminano per la scuola, per le classi, cantano la canzoncina di Santa Lucia e distribuiscono questi dolcetti, dolcetti a base di uova, latte, burro e zafferano, praticamente, c'è una piccolissima dose di zafferano, poi vi spiego perché, decorati con delle uvette. È una tradizione che hanno rubacchiato dalla Svezia, quindi a quanto capito in tutta la Scandinavia si festeggia in questo modo o in maniera molto simile. Che cosa succedeva tradizionalmente in passato, nel giorno di Santa Lucia? Succedeva che agli animali venisse dato del cibo extra e quindi pian piano poi anche gli esseri umani hanno iniziato in questa giornata a ricevere del cibo extra, a cucinarsi del cibo extra, insomma trattarsi bene con qualcosa di buono. Da qui arriva la tradizione di questi dolcetti che si chiamano Lyscutter, come vi avevo accennato prima, l'avevo detto, non mi ricordo se l'avevo detto, comunque adesso lo sapete. Questi dolcetti con una piccola percentuale di zafferano per dare un colore giallo. Ora, questo colore giallognolo simboleggia il sole, quindi in questo giorno molto molto buio, comunque questa giornata molto molto corta, vengono appunto cucinati e poi regalati o distribuiti, insomma consumati questi dolcetti, leggermente giallini, a forma di S. La forma di S appunto è che questa simboleggia il sole e la vita. Ora, io non ho mai cucinato questi dolci, li ho mangiati solamente l'anno scorso appunto, regalatemi da questi bambinetti vestiti da Santa Lucia che sono venuti in processione nella mia scuola, e sono buoni, sono una sorta di panini dolci, insomma. Comunque ho pensato, visto che ho trovato la ricetta, quest'anno di cucinarli per voi, cioè cucinarli per me e fare il vlog per voi. Non so come verranno onestamente, quindi adesso sono in procinto di iniziare questo procedimento, riprenderò il tutto, quindi se volete potete provare anche voi a cucinarli. Io però non vi garantisco nulla. Oh ragazzi, non so cosa dirvi, cioè auguratemi buona fortuna. Bene, comincio elencandovi la lista degli ingredienti e le quantità. Cominciamo con soli 200 grammi di burro. Leggere, direi. State attenti, fate attenzione, per chi dovesse venire a vivere in Norvegia, lo dico, che il burro in Norvegia spesso è salato, quindi se volete prendere quello per fare i dolci, dovete fare attenzione che ci sia scritto U SALTET, senza sale. Procediamo con mezzo litro di latte, Sì, qua fanno anche le bottiglie da mezzo litro, le confezioni da mezzo litro, poi c'è da un litro, c'è da due litri, mi sembra. Così le ho trovate io nel mio supermercato. Poi procediamo con un quarto, no scusate, 50 grammi, 50 grammi? Ma sono sicuri? 50 grammi di lievito. Poi proseguiamo con un quarto di grammo di zafferano, non ho idea di come farò a misurare un quarto di grammo. Circa un cucchiaino da tè di sale, 200 grammi di zucchero, che a me sembrano un po' tanti, quindi mi sa che ne userò 150. Io ho questa fissa di usare un po' meno zucchero quando faccio le ricette rispetto a quello che ci ha indicato, non per qualcosa di particolare, semplicemente che non amo la roba troppo troppo dolce. Tre uova, di cui due per l'impasto e una invece da buttare per terra, no, da spalmare sopra prima di cuocere, e uvette, uvette solamente per decorazione, insomma. Farina, possiamo usare una normale farina bianca, mi indica tra un chilo e otto e due chili. Niente, sono proprio 50 grammi di lievito, ho controllato anche altre ricette, vabbè, mi voglio fidare, spero di non fare un errore, quindi ho deciso di usare questo in bustine, dovrò usare 95 bustine, ma fa niente, al posto di questo, perché questo qua ho notato che quando ne uso tanto, mi fa diventare i dolci molto amari, quindi farò un tentativo con questo qua, che è quello che usano solitamente per fare la pizza e il pane, vediamo. La primissima cosa che dobbiamo fare è far sciogliere i nostri 200 grammi di burro, ora aggiungiamo al nostro burro sciolto il mezzo litro di latte, in teoria dovremmo portare questo composto a 37 gradi, ora io non ho un termometro, non ho intenzione di comprarlo per fare una ricetta sola, ad ogni modo, penso che, visto che il latte è molto freddo e il burro invece era caldino dal microonde, lo rimetterò un attimino in microonde, cerco di farlo scaldare un momento, sicuramente non... insomma, ecco, se verrà male, probabilmente sarà per colpa mia. Ho fatto scaldare questo obrobrio che mi era uscito ancora un po' nel microonde, presumo che la sua consistenza debba essere liquida, oddio, che ansia! Ora aggiungiamo quei 95 kg di lievito, 50 grammi in realtà. A questo punto aggiungiamo quel quarto di grammo di zafferano, io non ho messo tanto così, sarà un quarto di grammo? Chi può dirlo? Poi sale circa un cucchiaino da tè, mi sembra tanto, ma abbiamo il misuratore, e vado sul sicuro. Zucchero 200 grammi, ma io faccio qualcosa di meno, saremo 150. Qua vedete sprofondare le due uova, non c'è indicato niente di particolare, quindi le ho messe intere, ho interpretato così. E ora aggiungiamo pian piano la farina a questo schifo, perché non so se si percepisce dal video, ma è veramente una cosa abominevole. Lasciate perdere lo sporco qua in giro, vabbè. Comunque alla fine dovrebbe risultarvi un impasto di questa consistenza qua, diciamo gommoso e sodo. Ora, io ho usato un po' più di due chili di farina alla fine, perché mi era rimasto comunque abbastanza, non liquido, però, stava tanto incollato alle mani, mentre vedete questo, non si incolla. Quindi dovreste riuscire a raggiungere questa consistenza qui. Io l'ho assaggiato un pezzettino crudo e ha un sapore abbastanza... Sì, vabbè. Ha un sapore abbastanza plausibile. Quindi, ora, bisogna coprirlo con la pellicola e metterlo in un luogo asciutto e caldino, tiepido, io lo metterò nel forno spento con la luce accesa, finché non raddoppia le sue dimensioni. Ora, questo coso, non so come farà qua dentro a raddoppiare le sue dimensioni, probabilmente tra una mezz'ora mi avrà riempito il forno. Comunque, faccio un tentativo, lo copro e vediamo che cosa succede. Oddio. Beh, sì, è lievitata parecchio. Forse col senno di poi avrei dovuto usare metà della dose degli ingredienti, perché questa è la cosa più grossa che ho. Non posso più rifarne con due chili di farina. No, dai. Vabbè, adesso noi dobbiamo dividerla in 16. In teoria, magari me ne verranno di più. 16 palline e poi formare le S. Sì, ho deciso che dividerlo in 16 sembra una cosa sensata. Vengono 16 palline grandi, più o meno così. Ora, da questa pallina noi dobbiamo formare una sorta di salsicciotto. Quindi questo salsicciotto va lavorato e steso su un piano infarinato. Secondo me ho messo un po' troppa farina. Poi il salsicciotto va formato, va lavorato per formare una S. Una volta che voi avete formato le vostre S con i salsicciozzi di pasta, vedete che queste che ho fatto per ultime sono più piccole rispetto a queste qua che ho fatto per prima. Hanno cominciato già a lievitare nel frattempo che io le formavo quelle successive. Ad ogni modo, queste S devono lievitare, queste sono metà, ne ho altre otto di là, devono lievitare ancora 15-20 minuti coperte da un canovaccio. Io penso che gliene farò fare 15 perché vedo che... Che brutta questa, poverina. Vedo che si gonfiano molto velocemente. Passati questi ulteriori 15 minuti di lievitazione, spennelliamo la superficie con dal tuorlo d'uovo. E dopo aver spennellato possiamo farcire ogni S con un paio di uvette. Che carino! Sono consapevole del fatto che alcune siano proprio brutte, tipo questa. Però questa qui e questa qui e anche questa qua hanno una forma abbastanza decente, nel senso che sembrano quelle che si trovano al supermercato. Anche questa non è pessima. Vabbè, questa qua, poverina, non sembra proprio una S. Ora che sono pronte, noi le inforniamo a 200 gradi per circa 8-10 minuti finché la superficie non sarà dorata. Ecco, questa è la seconda infornata. Come colore vanno già molto meglio, anche se... mi sembra che si sono oscuriti un po' troppo in quella parte dove ho messo l'uovo. Ora vorrei capire, però vorrei aprirne uno per capire se sono anche cotti, oltre che dorati. Mi sono ostionata i polpastrelli, però ho aperto anche uno della seconda infornata e mi sembrano adeguatamente cotti. Forse sono un po' al limite. Diciamo che 10 minuti a 200 gradi potrebbe essere la loro temperatura, dai. Procediamo con l'assaggio. Non sono male. Non sono come quelli comprati. Sicuramente potevo fare di meglio, ma potevo anche fare di peggio, quindi ci sta. Sono morbidi. Ariosi. Non so se mette a fuoco. No. Ok. Sono un po' troppo di zafferano. Mi sa che non era un quarto di grammo quello che ho messo. Allora, niente, ragazzi. Spero che il vlog vi sia piaciuto, che vi abbia fatto fare due risate. Ho fatto sempre un po' i miei soliti casini. Grazie per aver guardato. Alla prossima. Un bacio. Un morso.